Figlia e nipote di pittori, scultori ed attori, la madre Adele Carlucci è stata attrice di teatro e di cinema muto. Sviluppa sin da giovanissima una piena formazione e competenza artistica. A partire dai suoi studi presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, inizia a recitare a 16 anni in alcune compagnie teatrali, e dallo stesso tempo ricopre i suoi primi ruoli insceneggiati televisivi di grande successo, quali il Conte di Monte Cristo, recita nella Compagnia dei Giovani con Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Rossella Falc, partecipando ad oltre 100 repliche dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello e, molti altri importanti testi teatrali. Per il cinema, recita nel film l'ospite di Liliana Cavani. Oltre al suo lavoro di attrice, Maddalena Giglia è anche pittrice col nome d'arte Gigliam. La sua pittura non si allontana dai canoni del figurativo, ma il soggetto esprime uno stato d'animo interiore, per fornire materia pittorica e luogo di approdo alla sua personale ricerca introspettiva.